Salve a tutti ragazzi, io sono Legomaster e oggi siamo tornati su Fortnite con un nuovo video Oggi andremo a sbloccare tutte le ricompense bonus della pagina 1 del Pass Battaglia E andremo a fare una partita con ognuna di loro Direi che possiamo cominciare a sbloccare tutte le ricompense Iniziamo a sbloccare le cose meno belle Quindi questo, riscattiamo la ricompensa, riscattiamo tutto Poi andiamo con questo standard, riscattiamo Questo spray, ok Riscattiamo Ora piccone Riscattiamo E adesso cominciamo con le skin Prima facciamo Joy Arenaria Ok Ci da il piccone E qui facciamo tutto Cioè riscattiamo tutto Adesso facciamo la Dottoressa Sloan Riscattiamo E Sanni dopo la spiaggia E riscattiamo Vorrei dire che possiamo andare a mettere queste skin E fare una partita con ognuno di loro Ok direi che possiamo iniziare con la prima partita Usando la skin di Sanni dopo la spiaggia Ok come prima partita abbiamo deciso Di andare a brughiere Quindi direi di Farci un attimo di shield Di armi e munizioni E andare a pushare subito Spiccato 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 Poverino Nooo Che gioco brutto Marco Uncillo Marco Milano Asparagi Ok tagli apri Bella neanche l'animazione Ma perché partita da tren Cioè E' partita da tren No si è baccata Non è pasato ma anche un secondo E già Sono quasi 2 minuti 5 diamo se riusciamo a portarci a casa una vittoria reale con il fan una partita 85 4 85 una scelta 38 no prendo il giorno dopo il punto di vista niente puccia ma sono pure la taglia ma sta curando l'amico testo la realtà se si era fermata a curarla laiera non c'è più o comunque sito se così fa questo di resta non ho mai trovato in una cassa i lanciarazzi non ho mai trovato i lanciarazzi era fermo mi sa mi sa anche fermo credo di averlo fatto per favore non è stato un'altra brutalmente se ne potrebbe andare un po' più in linea però 5 di vita c'è ventuno ma aveva quanti spazzo aveva questo ne ho visti tre non so se la se prendere il cecchino la mitraglietta prendi la mitraglietta e io mi prendo il cecchietto metti la jump metti la ma io ne ho altre due ho altri due medica voglio medica scildone il pubblico ok me lo dai a me martinato posso fare doppio cecchino ok coprimi per favore dove c'hanno cecchinate non so ok li ho visti niente ma dottoressa salon niente però non siamo in safe e la dottoressa salon la sotto con il vampo niente c'è un altro anche lì ok come è fatto a far arrivare le jump cioè si legge le granate qua oh di poco non ce la faccio di scarlet oh si ma due contro due aiuto sono in ansia ora mi hanno fatto cadere mi hanno fatto cadere mi hanno fatto cadere ahia sento ti hanno preso? no 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 tre volte venti ventinove provo a push proviamo a pushare però aspetta metto la giampa no facciamo fermo 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 something cosa? no scusa non ho capito il gioco è una altra ci si mi sono scorto mi sono esposto un secondo avevo avevo 176 di vita qua 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 sopra attento devi uno spossatevi nei denti qua 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 sopra di tu l'altro è qua che la sera marco lascia dispara è qua è qua è qua è qua aspetta che lo vedo dietro 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 sopra eh ma io non lo scendo si 28 vedrò ehm io non mangio tutto per non ci no dietro no ok seconda partita con Joy ok ok siamo atterrati l'ago per la seconda partita e c'è subito qui un player che già abbiamo ucciso siamo fortissimi io ho qui lato un altro ok lo trasporto non è vero aia allora uccidiamo le granate ok andiamo a dare una mano a dove aia ma sto arrivando ma non riesco a prendere le persone dentro le macchine ma non è normale eh no dove sono è uno scappato con la macchina un furgoncino e uno è qua sei, sì, è qua sono due addio andiamo in burundi semmai piuttosto di cerca un pompa non lo trovo io no ma neanche io dovrei lo spazio leggendario hai un pompa no ok no vuoi un uccidino ma si 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 allora prima cosa a trovare un pompa seconda cosa non lo so non morire non morire prima cosa darmi lo scendino immediatamente prima cosa terza cosa trovare il mio gioco fare tante kill ma quella magari e non arrivare secondi come prima e non arrivare vabbè tu che pusci senza pompa ho trovato una pistola però mi compensa bell'arma si da me mi metto qua sotto ok da me morto vedi vedi c'è un po' non è c'è una già bomba bella partita eh si ok terza e ultima partita con la dottoressa slorn e terza partita a a foschi fumaglioli non ce la faccio no non ce la fatta neanche io sezione parkour siiii io no ok cerchiamo di prendere queste cose qui ok presto c'era un lama c'era un lama ma si c'era un lama c'era una volta non so dubbio che sei sparito ma io ho una e come io ho una rb un pompa del mondo lui allora otto e scelta un mio port non se tanto se non non se non se non faccio un medicino aspetta non lo finiscono per voler via finisci come mai così gentile perché ne avevo 10.000 come come sempre la sei per lontana ma ma non perchè non ho guardato dovere l'amico prim ma si è perquisito se non lo guardo non ho guardato ma il amo è scomparso marco scompaio nel suo sito e lo so ma non ha lasciato niente che ti giochi dal 5 luglio ma non ha lasciato niente ah sì invece non so se non lo uccidi no no ti ho visto rubare le cose marco la cosa che non si può spaccare o si può spaccare cosa questo c'è un ama dove lo lo roba aspetta eccolo no povero no è andato via no marco marco guarda 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 lo vedi quel fascio blu si ah 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 ok ma ma ah comunque si è fatto tutto il giro di fascio ma io ho visto lama no 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 vabbè io mi faccio l'uscita non mi lasciare adesso no appena vedo potevamo prendere almeno un forse le cose in coma vabbè no allora dove andiamo dove stiamo andando ti faccio bruciare no no aspetta che c'è uno shindon qui ma dove sono andato eh mi sa che stanno morto no no ti ha colpito io dove sono andato aspetta che prendo lo scindone aspetta voglio rubare un palo non c'è non abbiamo mazzo dovremmo dovremmo fare un po' di mazzo dicevi e quindi ma insieme se vedo player tc lancio giusto perchè gli hai visti player no domenico però ci sono tutto questo marco marco eh lo so ma io mi devo curare sai qualcuno mi ha lasciato mi ha lanciato addosso i player ma che è stato non mi è stato no 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 mazzo partita con dottore non finita iscrivetevi anche al canale perchè grazie a youtube ho scoperto che più dell'ottanta per cento delle persone che guardano i miei video non sono uscita al canale quindi attivate anche la campanella ok questo video finisce qua iscrivetevi al canale e lasciate un like a questo video e tutti gli altri video attivate anche la campanella per non perdervi nessun video e nessuna live e noi ci vediamo lunedì a un prossimo video ciao grazie a tutti Grazie per la visione!